Spiegami questo accordo con il Bologna Calcio, per quanto riguarda il settore giovanile della Virtus. L'accordo con il Bologna è un accordo prettamente tecnico, abbiamo messo, fatto anche nel rapporto che noi abbiamo, è solo esclusivamente tecnico, quindi questo è stato fatto perché? Per i nostri ragazzi e per i nostri allenatori, quindi i nostri tecnici sono andati già tre volte a Bologna, abbiamo lavorato in aula e abbiamo lavorato nei campi con gli allenatori del Bologna, i nostri ragazzi per esperienze personali li abbiamo portati a Bologna, abbiamo giocato con le loro scuole calcio, abbiamo fatto delle partite con i ragazzini loro, sono venuti a San Giustino per fare dei corsi ai nostri tecnici, perché secondo noi una scuola calcio fatta bene non può prescindere da un tecnico preparato, non è più il momento in cui quello fa il vigile urbano e poi esce e va a fare l'allenatore, non è così. Adesso un allenatore di scuola calcio, specialmente di scuola calcio, deve essere un allenatore estremamente preparato. E' anche per questo che cercate comunque laureati in scienze motori, in più delle volte gli educatori, io li chiamo educatori, sono laureati in scienze motori. Beh, io nel nostro piccolo, nella nostra scuola calcio, io ho sei allenatori che hanno la laurea in scienze motori. Questa fa la differenza. Secondo me sì. Perché sono oggetti di cristallo questi ragazzini. Secondo me sì, quindi ecco perché ti dico che comunque il settore giovanile è un mondo a sé. Io dico sempre da noi che il nostro è un laboratorio di calcio, che non è fatto espressamente per la Virtus, perché io non posso dire a un ragazzino che ha l'esperienza, che come punto di arrivo ha la prima squadra, che è in prima categoria. Io gli dico che noi siamo un laboratorio dove lavoriamo tutti per far crescere questi ragazzi e poi ognuno di loro gli troveremo la strada giusta per la categoria che si merita.